Siamo a Addis Abeba, è appena finito il sesto congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica. Come con il festival di Sanremo appena concluso, ne si parla con il vincitore. È stata dura ma ce l'abbiamo fatta. Ha vinto più che io, le associazioni Luca Coscioni, l'Africa e gli africani. A partire dalla commissaria africana alla ricerca Sarangbor che ci ha ospitato, ha facilitato queste due giorni di dibattito, ma si è assunta la responsabilità di portare avanti in prima persona tutto quello che è stato deciso. E' stato deciso in modo particolare di investirne nella promozione e protezione di questo nuovo diritto umano che è quella alla scienza. Libertà di ricerca, condivisione dei saperi e godere dei benefici delle più recenti scoperte scientifiche. Con l'Unione Africana, con l'UNESCO, con i parlamentari di tutta l'Africa, con naturalmente Science for Democracy, l'Associazione Luca Coscioni e quelli di voi che vorranno partecipare a questa straordinaria impresa di libertà.